Radio Radicale, siamo in collegamento con Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, della Federazione dei Verdi, per parlare con lui del PNRR e del Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, che come sapete è stato criticato anche da Beppe Grillo. In realtà noi vogliamo fare anche un po' il punto sul PNRR perché abbiamo già tutti negli occhi le immagini di quello che è accaduto in Germania in questi ultimi giorni, dove i danni provocati dalle devastazioni, degli squilibri climatici hanno impressionato davvero tutti. Lei nella giornata di ieri ha fatto un comunicato molto duro nei confronti sia del Governo che del Ministro della Transizione Ecologica Cingolani. Su cosa si appuntano le sue critiche? Innanzitutto sul PNRR, le promesse disattese di Draghi, che quando si è insediato ha detto che avrebbe fatto una rivoluzione verde. Ecco, tutto ciò non c'è stato. Diciamo che sia abbastanza uniformato dal punto di vista del linguaggio di una politica che dice, poi fa in alcuni casi esattamente il contrario. Il PNRR, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato dal Governo e poi approvato dal Parlamento e inviato dalla Commissione Europea, per esempio, non affronta la transizione ecologica, anzi fa esattamente il contrario. Sembra proprio fatto per non indebolire ulteriormente aziende strategiche come Lenin nel nostro paese oppure l'azienda automobilistica Fiat FCA. Prendiamo ad esempio il trasporto pubblico. Nel nostro paese c'è una crisi sanitaria molto sottosciuta. Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente ci sono 56.000 decessi l'anno. Eppure il PNRR prevede risorse, devo dire, insufficienti, forse anche tanto. Solo il 10% della flotta di tutti gli autobus circolanti in Italia verrà cambiata, sostituita. Anche i trani regionali, solo il 10%. Su 456 trani regionali ne verranno cambiati circa 50. Pensate che ancora la metà sono alimentati a gasolio. E noi sappiamo che cosa significa questo nel nostro paese, cioè l'inefficienza del trasporto pubblico. In Germania, ad esempio, vi è una presenza di trasporto pubblico attrezzato su assi, quindi su ferro, metropolitane, tramvie, che sono di circa 24 chilometri per milioni di abitanti. In Italia ne abbiamo 5 di chilometri per milioni di abitanti. La città di Madrid, da sola, ha 230 chilometri di metropolitane. In tutta Italia ne abbiamo 227. Eppure continuiamo a puntare su quelle che vengono definite quelle grandi opere strategiche per rilanciare l'economia, tipo il ponte sullo stretto. E a proposito di quello che lei mi citava poc'anzi, il dramma tedesco e belga, cioè questa alluvione che ha spazzato via e ci sono ancora centinaia e centinaia di dispersi, un fatto incredibile, drammatico. Sul discesso idrogeologico il PNRR del governo Draghi prevede solo 2,69 miliardi di euro. Ecco, stiamo parlando di un PNRR che spenderà oltre 235 miliardi, una buona parte sarà a debito, e non era il caso la domanda invece di concentrare le massime energie per affrontare la crisi climatica e quindi investire sulle politiche energetiche pulite, sul trasporto pubblico, nella difesa del suolo? Perché questo PNRR invece va verso un forte consumo del suolo, perché c'è una logica vecchia. Vado avanti su Cingolani. Cingolani è veramente incredibile, ha definito il ministero della transizione ecologica un bagno di sangue, cioè è veramente incredibile. Cioè il ministero che porta il nome transizione ecologica lui lo definisce bagno di sangue, come se da domani il ministro Cingolani non fosse più il ministro della transizione ecologica, come se fosse il ministro del bagno di sangue. Ora, non va bene questo, come non va bene quando Cingolani diventa il nemico giurato delle auto elettriche, oppure lancia il mini nucleare. Insomma, io troviamo incredibile, mentre gli altri paesi d'Europa vanno in una direzione che è una direzione vera della conversione ecologica, in Italia abbiamo dei ministri che frenano, come oggi Giorgetti sul Libero, che dice che il piano verde dell'Unione Europea farà saltare in aria l'Italia. Ma questo sono, tra Cingolani e Giorgetti, usano parole di terrore, di paura contro la transizione ecologica, per mettere paura e fermare la transizione ecologica, salvaguardare l'esistente, quella esistente che non solo inquina, ma comprometta il futuro e non affronta con determinazione la crisi climatica. Dunque, quanto è previsto per il rischio alluvione nel piano nazionale di resilienza e di riforme di resilienza? Quanto viene previsto per questo e volevo chiederle, insomma, se ritiene che la somma sia adeguata? Ho detto prima, è preso 2,69 miliardi di euro. C'è uno studente dell'Università di Padova, merito suo, che ha fatto nella sua tesi di laurea uno studio interessante, bene ricordare questo studente, si chiama Pietro Lazzaretto, che ha analizzato le quante risorse sono state spese per rimettere a posto l'Italia dall'Unione e terremoti dal dopoguerra ad oggi, oltre 300 miliardi di euro. Non ci vuole la Merkel per dire che, come ha fatto ieri, che se facessimo prevenzione spenderemmo di meno che invece andrà a intervenire di fronte ai danni, ci vogliono persone dotate di buonsenso, cosa che non abbiamo nella politica italiana, che è molto occupata a difendere sistemi industriali che non vogliono innovarsi, a differenza di quello che accade invece in altri paesi d'Europa, dove ad esempio il settore dell'industria automobilistica da anni ha investito sull'auto elettrica. E non è vero, come dice il ministro Cingolani, che l'auto elettrica non è sostenibile, perché secondo lo studio del CNRR, ma tanti altri studi scientifici internazionali, l'auto elettrica riduce dell'89% le emissioni inquinanti. Allora, da un lato c'è chi vuole ancora sostenere che il futuro è il motore termico, vale a dire la benzina, il diesel, impedendo veramente la modernizzazione del paese, perché ci sono i sistemi industriali che non hanno voluto e non vogliono adeguarsi. Per quanto riguarda lo smog, che ragionamento dobbiamo fare e possiamo fare sulle città che sono amministrate sia dal Movimento 5 Stelle che il padrino del Ministero della Transizione Ecologica, che è su Milano, che è un'altra città dove il sindaco è un verde dichiarato, insomma, un ecologista dichiarato. Mi correggo. Sì, sì, Salah non ha aderito ai verdi, è una persona che guardiamo con grande attenzione. Certo, ci sono anche, diciamo, vedute differenti, come ad esempio il tema dello stadio di San Siro, noi siamo per la riqualificazione resistente, non ad esempio andare a cementificare ulteriormente. Però ci sono punti di contatto estremamente importanti. che però il tema del ruolo dei sindaci, io non farei una distinzione al Movimento 5 Stelle, a Roma, alla città di Roma, vediamo che gli autobus prendono fuoco. La RAT è una grande responsabilità. Lo dico anche perché, diciamo, nella lista delle 24 città con maggior smog nel 2018, che è l'ultima classifica disponibile che abbiamo, Roma è il quinto posto e Milano all'ottavo posto. Diciamo, tra le città, immagino, vedo che sono citate le città europee, quindi immagino che si tratti di una classifica europea, mentre al diciottesimo posto troviamo anche Torino, che è un'altra città sempre amministrata dal Movimento 5 Stelle. Ma, guardi, il problema dello smog è un problema che riguarda le città, perché lì si concentrano, diciamo, come dire, le contraddizioni ambientali, perché sono necessarie politiche virtuose da questo punto di vista. I sindaci hanno un ruolo importante, perché hanno il ruolo della pianificazione urbanistica, di evitare, attraverso anche la pianificazione urbanistica, un addensamento di funzioni e quindi conseguentemente di traffico. Ma c'è anche un altro aspetto, che se il governo non dà ai sindaci, alle sindache, le risorse per investire nel trasporto pubblico, per comprare autobus, fare tramvie, stiamo parlando del nulla. Quindi, cioè, non c'è sindaco leghista di 5 Stelle o di PD o d'altro che può tenere di fronte a una politica nazionale che non ritiene la priorità della lotta allo smog, investendo nel trasporto pubblico e in altre questioni, una priorità. E quindi il tema è questo, se nel PNRR, che era l'occasione storica, epocale, per cambiare il volto del nostro paese su un'infrastruttura strategica come il trasporto pubblico, voglio ricordare che investire nel trasporto pubblico significa aprire settori industriali, stabilimenti, assumere persone, quindi mettere in moto l'economia, oltre che fare un bene alla nostra collettività per fargli respirare aria pulita. E su questo il governo Draghi ha deciso di non investire. E questo è un fatto imperdonabile dal punto di vista, non solo del presente, ma dal punto di vista anche storico per le generazioni che verranno, perché questa occasione non si ripeterà più, perché nei prossimi anni noi saremo chiamati a ragionare come restituire il debito. E quindi gli investimenti saranno molto problematici. Questa era l'occasione storica per farla. Non l'hanno voluta fare e hanno una responsabilità storica di fronte alle generazioni, non solo presenti, ma a quelle future. Dunque, c'è anche una valutazione da fare sul nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, dove la parola ambiente viene citata soltanto, diciamo, tre volte, anzi due volte, perché il riferimento proprio all'ambiente è soltanto di due volte. Allora, le volevo chiedere che impressione ha avuto. Io penso che è uno statuto un po' particolare, però francamente provo sempre, sarebbe una pessima caduta di stile entrare e ragionare come è stato fatto lo statuto, perché ognuno si guarda i propri statuti. Certo è che è uno statuto che concentra molto potere al capo, e questo è fuori dalla storia dei Verdi, che abbiamo una visione, diciamo, ampia della democrazia e molto garantista da questo punto di vista. Il tema che la parola ambiente si è ripetuta poche volte non è questo l'elemento. Ho visto che hanno cambiato le 5 stelle, per cui adesso la parola è diventata ecologia integrale. Mi può anche star bene, però vede, gli statuti trovano il tempo che trovano, sono importanti, ma quando poi i parlamentari, i ministri vanno a governare e fanno esattamente l'opposto di quegli statuti, mi domando perché si fanno statuti di un certo tipo quando, ad esempio, le cito, i 5 stelle al governo, quando avevano, e attualmente lo sono, ma mi riferisco al conte 1 e al conte 2, hanno approvato un piano energia e clima che gli è stato bocciato dall'Unione Europea perché violava i target europei anche di Chioto dell'Accordo di Parigi. Oppure mi ricordo il tema dei fanghi tossici, cioè quei fanghi di depurazione che sono stati autorizzati ad essere dispersi sui suoi agricoli, quindi il cibo che ancora oggi in alcune parti d'Italia, specialmente nel nord Italia, viene coltivato su fanghi di depurazione che contengono grande quantità di diossine, di idrocarburi e di metalli pesanti. Insomma, l'ecologia è una cosa seria, che non può essere subordinata a un ragionamento politico. Vedo che molti oggi corrono a chiamarsi verdi, a prendersi il brand della parola ecologia, al di là delle operazioni, alcune pure abbastanza disoneste sul piano intellettuale, l'ecologia presuppone una grande coerenza se vogliamo essere seri, non solo con quelle migliaia, centinaia e migliaia di giovani che oggi chiedono un cambiamento, ma anche dalle famiglie che in nome del popolo inquinato ci dicono di cambiare, penso a Taranto, Priolo, dove la politica si è dimenticata. Allora è molto bello poi fare questo tipo di operazioni, però diventa veramente sgradevole quando questo tipo di operazioni si dimenticano di affrontare il tema del cambiamento ecologico in maniera seria, coerente, pragmatico e con cultura di governo. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato le sue critiche a come è stato concepito il PNRR sul clima, sui cambiamenti climatici e sull'ambiente. Ringrazio Angelo Bonelli, segretario dei Verdi. Ringrazio Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, segretario dei Verdi, segretario dei Verdi. Ringrazio Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, segretario dei Verdi, segretario dei Verdi, segretario dei Verdi.